E bene, la Juve vince a Marassi, vince a Genova 3-1, doppiata di Ronaldo e il primo gol è stato segnato da Paolo Dybala, Dybala che si è sbloccato, io mi auguro che per lui sia all'inizio di un ritrovarsi, continuo a pensare che non sia il modo giusto di vedere Dybala giocare, nel senso che continuo a pensare che con questo modulo Dybala non sia il giocatore adatto, però ha segnato, ha fatto anche un gran bel gol e speriamo appunto che questo gol, come ho detto, sia l'inizio di un periodo per lui più positivo. Torniamo però a parlare della partita e in sé, oltre a Dybala, direi che la Juve oggi ha fatto una partita pazzesca, infatti il risultato è bugiardissimo, il risultato è veramente bugiardo, ma veramente, il risultato sinceramente doveva essere molto più severo, noi se vincevamo oggi 4-0, 5-0, non c'era niente da dire, e infatti siamo andati in vantaggio col gol di Dybala, ma in un momento dove stavamo completamente ammazzando la partita, abbiamo fatto un primo tempo, io direi superlativo, cioè abbiamo preso a pallonate il Genoa, abbiamo creato anche qualche palla a gol, il Genoa ha giocato con un 5-5-0 praticamente, dove c'era solo Scamacca che ogni tanto si sganciava per andare a raccogliere le spizzate e spizzare il pallone, ma sinceramente abbiamo completamente annichilito il Genoa in una maniera incredibile. Perino ha fatto una bella parata su Mekinni, è stata sottovalutata quella parata, secondo me, perché lì non era così semplice. Oh ragazzi, poi, abbiamo preso un gol del cavolo, e questo sicuramente è una cosa che ci deve anche un attimo preoccupare in vista di mercoledì, perché giochiamo con l'Atalanta e questi palloni l'Atalanta va a nozze, eh. Abbiamo preso un gol da Ciula, come si dice la Milan, un gol del Ciula, perché sul pallone di Pellegrini Lungo ci siamo fatti scappare Sturaro, lì, boh, non ho capito, devo rivederlo, perché ancora io non ho capito chi è che ha maggior parte di responsabilità, diciamo comunque che il settore difensivo lì è andato veramente proprio a pallino, eh. La parte di là è andata a pallino. E niente, quindi gol di Sturaro, la partita è tornata in parità, potevamo subire invece, al Genoa abbiamo concesso solo un altro tiro con Rovella, credo, che è stato deviato e Shaznelli ha fatto una gran bella parata. E poi c'è stato il rigore sacrosanto sempre di Rovella su Quadrado e poi un altro rigore ancora più netto, secondo me, quello di Perin su Morata. E Ronaldo i due rigori li ha buttati dentro, perché Ronaldo, al di là di tutto, ragazzi, è un giocatore pazzesco, perché voi mi direte, eh beh, ma su rigore, ragazzi, i rigori bisogna segnarli, bisogna segnarli. Io ho visto giocatori eccezionali sbagliare i rigori a ripetizione. E non mi riferisco solo al treseghe di turno o al, che ne so io, all'Iguain di turno, che di solito sbagliavano i rigori a prescindere, perché non era il loro fondamentale principale. Anche Del Piero ha fatto dei periodi dove palloni spesso i rigori li sbagliava. Non mi ricordo se ne ha sbagliati una volta, tre in quattro rigori tirati. Capita, non ho i momenti dove la palla non ti entra neanche sul calcio di rigore. E qui Ronaldo però te li tira tutti in una maniera che non sai come te li tira, però te le butta dentro. E quindi niente. Diciamo che quello di Rovella non sarebbe stato, non si sa se la Juve aveva fatto gol in quell'azione lì, perché Quadrado andava sul fondo, chiaramente poteva crossare, Rovella ha fatto un'ingemuità. Quello di Morata, quello su Morata, lì è rigore e tra l'altro lì è gol. Nel senso che Morata se lì non viene buttato giù la butta dentro. Già la stava buttando dentro Kulusevski, quindi... Ma direi oggi bene la Juve, bene. Un po' sotto tono Rabiot sinceramente. Primo tempo brutto di Dybala, poi si è ripreso un po' col gol. Meno bene Mecchini rispetto a Barcellona, ma anche oggi non era facile. Ha fatto una bella partita, nel senso che corso tantissimo e la partita oggi di Mecchini è stata soprattutto di quantità. Non era facile perché, ripeto, hai giocato col Barcellona, paradossalmente è più facile giocare a pallone perché giocano. Qui è più difficile perché si chiudono. Ti trovi squadre fatte da dieci difensori praticamente. Poi Perino ha fatto, ripeto, anche un bel po' di parate non indifferenti. Quella su Ronaldo di testa è stata una bella parata. Ragazzi, guarda, adesso sto vedendo qua. Il possesso palla, Genoa 29%, Juve 71%. C'è un dominio anche territoriale. 9 tiri in porta, 2. Il gol è il tiro di Rovella che esce a Snipara. Tra l'altro ha deviato. Quindi, insomma, direi che questa è stata una vittoria da grande squadra. La grande squadra, tra l'altro, tiri fuori Genoa 0, Juve 2. Quindi Genoa ha andato a tirare due volte nello specchio della porta della Juve verso lo specchio. La Juve ha tirato ben 25 volte. Quindi, insomma, direi che... no, 15 volte, scusate, 15 volte. 10 angoli a 0. Insomma, sto vedendo un po' lo scout. Lo scout è impietoso. La Juve ha praticamente dominato. E ripeto, il risultato è molto bugiardo, molto bugiardo, perché il risultato più giusto sarebbe stato, secondo me, il 4-0 per la Juve. Però va bene così. Accontentiamoci dei tre punti. Adesso testa l'Atalanta, perché di quelle che mancano alla sosta natalizia, secondo me è la partita più difficile, quella più insidiosa. Io vi saluto, vi do appuntamento con il prossimo video, dando il migliore in campo a chi è una bella domanda, premio, ovviamente, chi ha fatto due gol. Cristiano Ronaldo. Ciao a tutti, ragazzi.